di avere in un certo senso bisogno di mettere un punto però per un motivo positivo, non negativo perché con la tournée in particolare mi è sembrato un po' il culmine di un percorso anche perché nella tournée non ci sono solo io ma ci sono le persone con cui ormai da più di 10 anni mi accompagno del lavoro che sono la mia famiglia ormai visto che sono legato soprattutto con i musicisti da un rapporto di fedeltà che è abbastanza poco frequente nel mio mondo che invece si rinnova sempre come patto reciproco di amicizia e di affetto però che ha anche avuto una produzione, un percorso di crescita abbiamo iniziato a suonare insieme e forse ci trovavamo bene a mangiare insieme a ristoranti ma suonare ancora era una cosa che stavamo imparando tutti quanti negli anni siamo cresciuti e quella tournée, quella per me appunto finita da molto tempo finita per noi non parlo del risultato, del successo eventuale della gente che è venuta ma del nostro sentirci sul palco ci siamo sentiti, credo tutti parlo anche a noi degli altri cresciuti e in qualche modo completi e volevo fotografarlo questo momento e poi non è solo questo la sensazione è anche che il mondo stia cambiando a una velocità abbastanza evidente a tutti in sensi non solo positivi magari un altro gruppo cambia e non so se quello che succederà da qui in poi sarà simile a quello che è successo fin qui per tanti motivi che c'entrano un po' col mio mestiere come modo in cui la musica si distribuisce si fa in modo che sta cambiando tutti ci dobbiamo rinventare in effetti poi questo è un disco che va proprio contro un po' lo scaricamento perché ci sono un sacco di tracce video però non va contro polemicamente no 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 è un oggetto forse non è un caso se oggi paradossalmente abbia sentito anche la voglia di metterci tanto impegno in un'operazione che voleva essere banalmente quella di mettere insieme dei pezzi impacchettarli e offrirli anzi non avrei dovuto fare nulla e invece proprio in questo caso mi sembra che valesse la pena spenderci l'impegno e ho trattato questo lavoro come se si tratta normalmente un disco nuovo o di niente che si va a fare risuonando molte canzoni risuonando non a caso proprio per fare quella fotografia insieme alla mia band suonando tutto dal vivo senza riprodure senza provinare non facendo nascere le cose per come ormai noi le sentiamo ormai invece ce le raccontiamo a proposito di fotografie visto che non siamo in radio volevo porre un accento su questa fantastica foto di copertina che è fatta con delle monetine vere è fatta con 441 monete diverse ma tutte diverse sono tutte diverse un lavoro mostruoso di Paolo del Francesco questo grafico straordinario che poi è di qua vicino è un ragazzetto che quando lo vedi non mi dovessi venire ma invece deve evitare 400 deve parte un sacco di calla per fare una cosa mi sembra di fare una nera anche lucida comunque secondo me adesso mi va del risultato in sé che comunque devo dire mi sono bastanti ma è bellissimo perché non c'è una cosa tua poi da vicino lo è ci sono aver ricostruito tutti i video ovviamente gli eroscuri colori e la monete è veramente insomma va abbracciato credo quel lavoro non io il lavoro di Paolo in questo caso prima di dare spazio alle domande che so essere tantissime o un'ultima domanda io sono ne ho varie la canzone moletile è fatta sulle cegheri diciamo di un vecchio bravo aiutami a ricordare si chiamava Puzzo dei Desideri Puzzo dei Desideri esatto è un'operazione inconsueta nel senso che in Italia è una cosa più appartenente alla cultura rapper ci sono certi rapper che magari tengono delle parti che un vecchio pezzo e poi lo rifanno come ti è voluto come vai? al di là del fatto che il rap un po' te lo chiama e te lo chieda visto che chiaramente è un testo pensato per essere autofunzionale perché la sua musica è nel suo ritmo può essere poi vestita in mille modi diversi quindi quello si presta in questo caso l'esigenza era a monte era quella di risolvere un problema nel senso che Puzzo dei Desideri è uno dei casi per fortuna è abbastanza raro ma ce ne sono stati errori ne facciamo tutti in cui una volta finito il disco finito la registrazione del pezzo in particolare mi sono reso conto che avevo sbagliato qualcosa non sapevo bene cosa ma quel pezzo lì non mi piaceva c'erano delle cose che dentro non mi piacevano tant'è vero che non l'ho praticamente mai suonato dal vivo pur considerando quel testo un testo che avrei voluto far sentire però insomma questa era rimasta una spina un dolore questa raccolta è stata proprio l'occasione di correggere per esempio errori come quello ci ho messo tanto perché l'ho capito da poco come dovevo fare poi a mio giudizio magari ci sarà qualcuno a cui piacerà di più la versione originale ma non credo perché secondo me questa è quella giusta quella che doveva nascere già loro una volta fatto questo mi sembrava anche corretto e giusto e meno e più sincero non decidere di scegliere uno dei due pezzi netti che ci sono con la cover che c'è con la cover che c'è nel disco come normalmente si fa che è un modo anche per dire c'è una cosa nuova e forse qualcuno fregarlo che pensa di trovarsi in un disco interamente nuovo invece ho scelto proprio uno degli esempi di qualcosa che è stato ripensato riscritto testimonianza di una crescita di un cambiamento e usarlo come artista che spiegasse già di cosa si tratta i risultati sono abbastanza orgogliosi voi siete orgogliosi del risultato ma magari ancora non lo posso